Ben ritrovati e ben ritrovati, se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella notifica, lasciate un bel like e seguite ilbianconero.com, mi raccomando. Andiamo subito al dunque alla traccia impostata ieri nel terzo pomeriggio tra Juventus e Aston Villa e portata avanti nella notte. Faccio riferimento al fatto che la Juventus voglia mettere a tutti i costi le mani su Douglas Lewis sulla base di un conguaglio più o meno vicino ai 25 milioni di euro e i cartellini di Ealing, confermato, ed Enzo Barrenecea, novità. Più tardi parleremo di Wes McKennie, perché in tanti mi avete chiesto, ma dopo questo atteggiamento che ha applicato e che poi ha fatto in modo che venisse tolto dal discorso con Aston Villa, che trattamento subirà da parte della Juve? Ecco, lo spoiler è che ovviamente ho avvertito un certo tipo di fastidio, la zona bianconera, però ne parliamo più tardi, non facciamo un minestrone. Concentriamoci su come la Juventus stia andando avanti per chiudere questa benedetta trattativa. Allora, parto col dire che Douglas Lewis per Tiago Motta è assolutissimamente una priorità, perché viene visto come un giocatore in grado di far fare un salto di qualità al reparto, un giocatore funzionale, un giocatore che ha ancora margini di miglioramento, un giocatore che è forte. D'altra parte, mi spiace per i soloni che ovviamente vivono accecati dall'odio per la Juventus, ma è uno che nella passata stagione ha giocato più di 50 partite con la Aston Villa. Mi pare 10 gol, altrettanti assist, convocato in Coppa America dal Brasile, quindi è un signor calciatore. Mi spiace per coloro che non ti fanno Juventus, se poi dovesse approdare all'ombra della mole, ma questo è oggettivamente un signor giocatore. E siccome è un signor giocatore, gli ultimi confronti che ci erano stati nei giorni scorsi tra lo stesso Tiago Motta e la dirigenza hanno semplicemente consolidato un imperativo categorico, fare di tutto pur di portarlo a Torino. Ovvio che la Juventus avrebbe preferito 100 volte inserire McKennie perché ora diventa un problema. McKennie è un giocatore che va in scadenza nel giugno 2025 e se fosse andato alla Aston Villa la Juventus avrebbe risolto questa grana togliendosi tra l'altro due calciatori che vanno in scadenza nel 2025 perché anche Ealing è legato da questo legame lavorativo con i bianconeri. La Juventus non avrebbe voluto sacrificare Barencea così, nella maniera più assoluta perché Barencea era un asset, però ci vogliono anche capacità di problem solving. Quando capisci che devi cambiare strategia perché con quella non vai da nessuna parte, in qualche modo devi venirne a capo, soprattutto se consideri come consideri Douglas Lewis un'assoluta priorità. E i contatti che sono stati fino a questa notte tra Juve e Aston Villa si sono concentrati principalmente su tre calciatori. Enzo Barencea, che è entrato poi lui nel pacchetto. Mattias Sule, che la Juventus però non vuole vendere o svendere così facilmente. Teddinghausen, stesso discorso di Sule. Quindi, complessivamente, complessivamente, a un certo punto, quando è giunto le Monge, il direttore sportivo dell'Aston Villa, si sono confrontati, è emerso come Barencea potesse essere il tassello giusto per ripartire. Perché quando io vi dico che queste trattative sono estremamente laboriose, non lo dico tanto per fare maniavantismo o per spettacolarizzare o per fare in modo che voi risiate incollati sui miei contenuti che pubblico qua, su questo favoloso mondo brandizzato YouTube. No, perché così, basti pensare che qua stiamo parlando di tre calciatori e una calciatrice. Alicia Lehman che seguirà il compagno Douglas Lewis. Quindi, quattro procuratori, quattro agenti diversi, quattro agenzie differenti, togli uno, rimetti l'altro e devi rivedere la struttura dell'accordo, il conguaglio. Perché con McKennie avresti speso tot di conguaglio, con Barencea devi alzare l'offerta, perché Barencea sicuramente, magari in prospettiva, diventerà più forte di McKennie, calciatori con caratteristiche differenti, ma ad oggi non ha il valore dello statunitense, che è appunto un giocatore che nell'ultima stagione è stato un titolarissimo da Juventus, una pedina imprescindibile anche per la nazionale statunitense, uno che ha nel suo curriculum le esperienze anche in Bundesliga con lo Schalke e nella stessa Premier con il Leeds, il retrocesso. Quindi ad oggi è normale che McKennie, pur in scadenza del 2025, valga più di Barencea. Però è ovvio che Barencea avrebbe voluto rappresentare una chiave di lettura interessante anche per altre strategie. Denaro fresco, io credo che poi Barencea sarebbe stato valutato da Tiago Motta e ora non dobbiamo nemmeno fare i fenomeni. Mi spiego meglio, se noi oggi facessimo un campetto, il Barencea figurasse nella rosa juventina, campetto per la nuova stagione, non lo metteremo mai tra i titolari della squadra, siamo onesti. Infatti parliamo di Douglas Lewis, di Locatelli, di Fagioli, vediamo cosa succede con Rabiot, altrimenti ho di sostituire Coppomenersenza non più avanzata del campo. Quindi mi ricorda un po' le lacrime spese per Rovella, ero uno dei primi a dire non mi convince molto questa operazione, poi Rovella nella passata stagione si è avuto anche problemi, infortuni, se non sbaglio la pubalgia, non è inciso ed è un giocatore che tra un anno porterà 17 milioni. Più quanti per Pellegrini 3-4, altro giocatore su cui si piangeva, si piangeva, si piangeva, si frignava e che mi sembra che non è che abbia fatto granché alla Lazio. Quindi c'è vita oltre Barrenecea, non voglio ora che possiate fraintendere il mio concetto, ma sicuramente ragionando nei panni, nelle vesti di Cristiano Giuntoli da manager, è normale che magari non sei felicissimo di quello che hai combinato a livello di strategia per poi arrivare a Douglas Lewis, perché Barrenecea è un calciatore che magari poteva anche crearti un effetto asta con due o tre interessamenti e ti avrei provato denaro fresco da investire per altri profili. Mentre qui hai dovuto inserirlo in una trattativa perché si era incagliata e perché senza il suo inserimento non porti a casa il giocatore che vuoi portare a casa, ma serve solo per rendere meno, diciamo, rosso il conguaglio che devi versare nelle casse della Stonvilla. Quindi è un sacrificio a tutti gli effetti quello di Barrenecea. Puoi anche fare una fotografia sul fatto che poi la next gen funzioni perché ti ha dato la possibilità appunto di creare un calciatore come Barrenecea che poi ha fatto la sua esperienza al Frosinone e che oggi ti aiuta ad arrivare a un profilo di livello assoluto a livello mondiale come Douglas Lewis. Questo sì, però sono fermamente convinto che se dovessimo tutti noi parlare con i dirigenti a Juventus sarebbero sì felici di quello che stanno per fare, cioè chiudere quest'operazione su queste basi, ma al tempo stesso non così contenti di sacrificare in questa maniera Barrenecea. E per cui credo che McKennie da questo punto di vista e non solo si dovrà assumere le sue conseguenze. Cosa aspettarci in giornata? Che si possa davvero quagliare. È vero che siamo al 20 di giugno, mancano ancora dieci giorni perché sapete bene com'è l'Aston Villa debba fare delle operazioni per mantenere un certo tipo di equilibrio finanziario entro il 30 di questo mese, ma da quello che ho avvertito c'è anche il forte desiderio da parte di tutte le persone coinvolte di arrivare finalmente alla chiusura che onestamente era già stata definita. Perché se McKennie non fa muro un po' con l'Aston Villa, un po' con la Juventus, probabilmente da 4-5 giorni staremmo parlando a tutti gli effetti di una trattativa chiusa con le varie firme. Così non è stato perché è complicato, è complicato pensare che tutto finisce, no? Soprattutto quando tu sei proprio un giocatore di questo tipo e ne piazzi due che non si spostano gli equilibri o che comunque vuoi piazzare perché non rinnovano, perché tu non vuoi magari dargli determinati soldi, però è certo che ora McKennie da oggi rappresenta a tutti gli effetti un problema perché tutti sanno che te ne vuoi privare. Lui, bisogna capire che tipo di atteggiamento attuerà quando poi ci saranno altri interessamenti perché qui ha chiesto, ne parliamo più tardi, ne parliamo in maniera proprio, raccontiamo tutto quello che è successo. Lui ha chiesto una buona uscita, una fee quindi alla Juventus, una sorta di incentivo all'esito, più soldi anche alla stessa Stonvilla e quindi ha trovato due muri. Poi le parti hanno provato a venirne a capo, a trovare una sorta di punto d'incontro, ma alla fine della fiera, ieri, è emerso in maniera incontrovertibile, come fosse inutile continuare a sbattere contro un muro, o meglio, quello che ho dietro. E alla fine è stato deciso che Enzo Barrenecea è la traccia impostata. Fatemi sapere cosa ne pensate qua sotto, come vi dicevo negli altri giorni, adesso non per fare il fenomeno, non ho mai avvertito che potesse saltare Douglas Lewis alla Juve, in quanto quando c'è un forte desiderio, e c'è anche il desiderio da parte di tutte le parti coinvolte, cioè la Stonvilla deve vendere per fare dei soldi, il giocatore vuole andare totalmente alla Juventus, Juve, Juve, Juve a un certo punto, e tu lo vuoi perché devi far partire in modo possibile il regno di Tiago Motta, una soluzione si trova. Però sarebbe stato sicuramente infinitamente meglio non sacrificare in questa maniera Enzo Barrenecea. A mio modo di rivedere.